E' una storia che ha per nuovo, Parigi dell'anno del Signore, 1482, storia d'amore e di passione. Noi gli artisti senza nomi, della scultura e della rima, la faremo di vivere da oggi all'avventura. Questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, statua, musica e poesia, le sale sul verso le stelle, la scultura e la frate, la scrittura e l'architettura. Con tanti piedi e tanti giorni, con le passioni secolari, uomo elevato alle sue torni, con le sue mani popolari. Con la musica e le parole, ha cantato cos'è l'amore, e come vola un ideale nei cieli del domani. E questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, statua, musica e poesia, e la pietra si fa, statua, musica e poesia, la pietra si fa, statua, musica e poesia, e questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, statua. e questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, statua, statua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.